Sono il gruppo consigliare della Regione Lazio e della Regione d'Italia per fare un avviso di sfratto al Presidente Zingaretti. Perché un avviso di sfratto? Perché prima di tutto ha commissariato il Consiglio regionale. La democrazia deve sempre prevalere, specialmente in una fase delicata come questa. Il Consiglio regionale non si riunisce da più di due mesi. Questo è un atto gravissimo e è un precedente molto, molto pericoloso. E la seconda cosa, la seconda motivazione dello sfratto al Presidente Zingaretti è perché purtroppo la Giunta regionale sta copiando e sta copiando male quello che sta facendo il Governo nazionale. Cioè ritardi, tanti ritardi, tanta confusione, tanta destabilizzazione e interventi non incisivi come quelli che ci vorrebbero, quindi come i contributi a fondo per punto. Fino adesso non si è visto traccia, ci sono visti solo degli interventi, dei prestiti, che comunque sono sempre delle somme di denaro che le imprese devono restituire e comunque dei prestiti che ancora devono entrare nelle casse delle imprese. La cassa integrazione in deroga ancora deve partire, quindi anche qua c'è un grande ritardo. E' stato fatto ormai un mese fa, il 3 aprile, un annuncio di aiutare le imprese con dei bonus per gli affitti e ancora oggi non si è visto nulla. Quindi risorse vere e concrete non sono mai arrivate. Si è parlato fino ad ora solo di prestiti, ma sono prestiti che comunque di liquidità che ancora non è arrivata. E poi purtroppo c'è un grande ritardo e c'è le motivazioni principali, per non parlare poi della vicenda mascherine, ma lì sarà la procura che sta indagando a dire come sono andate bene le cose, se ci sono stati affidamenti irregolari. E quindi per questi motivi e per il fatto che è stato appunto commissariato il Consiglio regionale, noi abbiamo chiesto con forza la convocazione del Consiglio straordinario che spero arrivi il prima possibile. Queste sono dei ragioni secondo me sufficienti, più che sufficienti per poter appunto sfrattare il Presidente Zingari.